Ciao bellezze, bentornati su Secondo Tava, video... praticamente mi vedete in effetti con un look non esattamente sobrio perché stavo uscendo e ho detto, sai cosa, adesso accendo la videocamera e mi metto a fare una chiacchierata rapida per Secondo Tava. Si sentite zompettare perché c'è la cagnetta qua che sta girando per il piano, perché mi ha vista mettermi la giacca a salire al piano di sopra e ho detto, ah, magari stiamo andando da qualche parte, vado a controllare dove sta andando Stefania. Chiacchiera rapida delle solite per aggiornarci un po' sulle tante cose in corso, su come sta andando, su tutto quello che sta passando, tutta l'acqua che sta passando sotto i ponti. Per chi mi segue sui social ha visto che sono state aggiornate un po' così, perché avete visto che nell'ultimo vlog che ho fatto, quello dove eravamo in giardino, più o meno dal minuto 4 ero in compagnia di un cagnolino, Lucky, che è stato con me per quasi 13 anni. Quel video io l'ho girato il giovedì e purtroppo il venerdì sera il cagnolino è stato male, aveva tutta una serie di problemi con cui non so ad annoiarvi, comunque purtroppo sappiate, se non avete mai avuto un cane, che certe malattie incurabili che colpiscono le persone, colpiscono anche i cani, purtroppo, e la domenica mattina è morto. Quindi chi mi conosce bene sa che per me i cagnolini non sono come quelli che se li sistemano in giardino e li mollano lì, per me sono membri della famiglia a tutti gli effetti, quindi è stato purtroppo, nonostante sapessimo della malattia, è stato purtroppo un po' un fulmine a ciel sereno, nel senso che il cagnolino giovedì, come avete visto anche voi nel video, era tranquillo, era contento, siamo usciti, ha corso come un pazzo, mi ha fatto pure arrabbiare perché stava correndo così tanto che non riusciva a stargli dietro, alla fine gli ho dovuto mettere il guinzaglio perché li porto in un'area dove non c'è nessuno, in mezzo alla campagna, però voglio che stiano vicini a me perché sennò chi cavolo li rincorre, io no di sicuro, e Lucky non ascoltava niente e nessuno da quel punto di vista. Forse avete capito, per chi mi conosce un po' meno, però anche da questo canale forse avete capito che sono una che cerca sempre di tenersi abbastanza tappata, con le emozioni, anche se secondo me la mia run di Death Stranding vi ha detto esattamente il contrario, però è stato strano riuscire un po' a tenere my shit together, fino a la notte tra martedì e mercoledì, quindi due giorni dopo che il cagnolino è morto, qua è venuto un temporale, quindi stava proprio piovendo con tuoni forti, ho pensato che Lucky era un gran fifone, quindi ogni volta che c'erano i temporali aveva paura dei tuoni e andava a nascondersi sotto la mia scrivania, e quindi ingenuamente sono andata con lo sguardo sotto la scrivania come per vedere se si era messo lì, ovviamente non c'era lì, e quindi lì, crollo emotivo della shit tenuta together da qualche giorno, ho dovuto riattaccare un pochino di pezzi però. Adesso pian pianino vediamo come va, anche Ariel che non aveva mai conosciuto, l'altra cagnetta non aveva mai conosciuto una vita senza di Lucky, è abbastanza stranita, continua a cercarlo, a non usare le cose, non capisce perché è sparita la cuccia, i guinzagli, andavano sempre a passeggio in due, quindi è un po' stupita anche lei, è strano vedere come anche i cagnolini debbano elaborare i lutti, ecco. Comunque vorrei sapere se quando ho preso questo maglione avevo le braccia più lunghe, o ero ceccata e non ho visto quanto era lungo, perché una di queste opzioni è necessariamente vera e temo che sia la seconda, non credo di aver avuto le braccia più lunghe. Altre cose un po' più allegre magari, ci tenevo ovviamente a dirvi questa cosa perché qualcuno che mi ha seguito sui social avrà detto, ah ma quello non è il cane che c'era nell'altro video, sì era quel cane che c'era nel video, nell'ultimo vlog che abbiamo fatto prima di questo. Altre cose, è un periodo di cose fitte, con spazio, non vedo l'ora di potervene parlare, ancora qualche passetto e possiamo parlarne a tutti gli effetti, e in questo periodo dovrei, visto che siamo ad aprire in oltrato, dovrebbe arrivare l'espansione di Horizon, sono curiosa di giocare questa espansione perché ricorderete che io avevo previsto quando feci la recensione del gioco che secondo me ci avrebbero fatto approfondire un po' quella tribù sul mare, non dico niente per chi non ha giocato al gioco principale, perché secondo me aveva delle potenzialità che nel gioco principale non si erano viste, e da quello che si è capito per adesso, probabilmente questo DLC ci dirà un pochino di più su questa civiltà, e sono abbastanza curiosa però. Vediamo adesso quando arriva, quando metterci in mano, tutti i materiali promozionali continuano a farci capire che ci muoveremo molto per aria, per così dire. Voglio vedere come hanno sfruttato questa cosa, anche considerando che hanno sbandierato che è solo per PS5 perché su PS4 non poteva girare. Ok, allora se è solo per PS5 perché su PS4 non poteva girare, mi aspetto quantomeno che il colpo d'occhio, visto anche lo scenario dove ci faranno andare, sia tanta roba. Quindi sono curiosa e spero di poterve ne parlare quanto prima su spazio di questo Burning Shores di Horizon Forbidden West. Lato mio, cose di attività personali, sto scrivendo molto, troppo, anzi mi sto mettendo dei paletti sullo scrivere perché in questo periodo, anche per via del forte stress immagino, anche stress emotivi, come vi dicevo, quando le persone sono solite tenere un tappo per non far uscire le emozioni, io dico sempre che dai tre giri di chiave alla serratura per tenere la porta chiusa, però poi ti saltano i cardini dall'altra parte, che è un po' quello che è successo martedì scorso. Quindi cerco di passare un po' meno tempo al computer o comunque con un'attività isolante come la scrittura, anche perché ogni tanto vedo che me lo chiede il corpo, ecco, di non stare concentrata necessariamente a elaborare qualcosa. Però sono nella fase di scrittura in cui sei divisa, non faccio spoiler, non dico altro, però sono nella fase di scrittura in cui sei divisa perché c'è una parte di te che vorrebbe questo per i tuoi personaggi, ma c'è la parte di te consapevole che sa qual è la cosa migliore che serve alla storia, che coinvolge quei personaggi. Quindi sono in questo momento di divisione, a suo modo stressante, per portare avanti la storia che sto scrivendo. Però è andata molto molto avanti, devo capire un attimo come far ricombacciare tutto, a meno che non capiti un disastro, è veramente difficile che questa volta mi naufraghi in mano, come è stato per le bozze precedenti che, a parte una, mi erano naufragate molto prima che a questo punto. Bene, non voglio fare un video lunghissimo, volevo fare solo una chiacchiera di mini aggiornamento rapido, ho qualche video già scritto, vedo quando riesco a girarli, qualcosina anche in relativo a Steam Deck, guida di Steam Deck e quant'altro, ho la traccia, devo girarli, però come vi dicevo nell'altro video, devo un attimo trovare gli incastri per girare in questo periodo, tant'è vero che mi vedete qui con questa specie di giacca da biker, proprio perché ho detto sai cosa, adesso prima di uscire mi metto e registro. Grazie per aver visto questa video chiacchiera fino a qui, io sono Stefania, se preferite Tava, ci vediamo presto come sempre su Secondo Tava. Grazie per aver guardato il video.